E' stato l'unica ad accogliere da questo figlio, Santino è come un figlio e come un figlio. E che fai, Yurko? Non lo so. So che è stato in galera, ma ne è venuto fuori senza permesso. A me piace molto. Però mi sa che lui non ti rifreghi niente. So... ...